Diamo benvenuto a Dario Di Muro, direttore generale di V-Bank Private Investment. Iniziamo con un piccolo bilancio di come sta andando questo 2019, siamo quasi a mezz'anno ma non ancora e poi dato che il tema principe quest'anno è il sonone dei risparmi e quello della sostenibilità io volevo capire da lei come i V-Bank Private Investment interpreta questa tematica. Ben trovato innanzitutto, la ringrazio per la domanda. Il 2019 per noi, così come detto in altre occasioni, è un anno importante perché vuole segnare una svolta, una svolta commerciale. Abbiamo lavorato alla macchina, abbiamo concluso il merger fra la piattaforma di trading online e la rete di consulenti finanziari, siamo pronti per accelerare. Questo primo trimestre è partito in linea con le nostre previsioni di budget, quindi siamo senz'altro soddisfatti fino a questo punto di quanto fatto. Evidentemente il secondo trimestre è una tappa impegnativa e quindi siamo già tutti protesi al raggiungimento dei risultati importanti anche per quanto riguarda il secondo trimestre. Per quello che riguarda invece il tema del salone del risparmio è un tema che a noi è molto caro e molto vicino. Di fatto UBI, quindi il gruppo, ha un ruolo da pioniere per quanto riguarda la sostenibilità, la governance, queste tematiche perché nel 2018 il gruppo ha festeggiato il miliardo, ha superato il miliardo di collocamenti in bond sociali. Quindi un miliardo di collocamenti presso i nostri clienti con circa 90 progetti nel sociale portati avanti grazie anche al contributo del gruppo. Quindi noi ce lo abbiamo nelle nostre corde, quindi abbiamo fatto nostro come i VBank questo impegno da parte del gruppo e contiamo di portarlo avanti. Quindi diciamo è un salone che riteniamo molto vicino perché è nelle nostre corde in quanto al tema del sociale.